Massa Lubrenze, il festival del libro d'inchiesta, appuntamenti in calendario ogni lunedì fino al 31 agosto. Marcella Maresca. Riforma della magistratura, sviluppo sostenibile, politiche antimafia, il ruolo dei social nella costruzione del consenso. Sono alcuni dei temi di attualità che si incrociano qui sulla terrazza del Gocce di Capri di Massa Lubrenze, nelle parole di giornalisti, magistrati e scrittori chiamati a confrontarsi settimanalmente al festival del libro d'inchiesta. L'ultima è stata la volta di Magistropoli di Antonio Massari, firma del Fatto Quotidiano, dedicato alle inchieste che scuotono il mondo della magistratura dal caso Palamara alla loggia Ungheria. È evidente un livello di commistione sempre più inquietante tra magistratura e politica, quindi la devianza che diventa normalità. È un libro che deve portare a comprendere quali sono i meccanismi e di conseguenza i lettori ad avere un'opinione chiara per avere le idee precise su quello che in questo momento è la magistratura. Nata da un'intuizione comune del giornalista Vincenzo Iurillo e dell'imprenditore Marco Cocurullo, la rassegna andrà avanti con appuntamenti settimanali ogni lunedì fino a fine agosto.